Ci sta in giro una persona che è pronta a fare una strage. Ho bisogno della banda. Che bello rivedervi. L'ideale sarebbe stato non rivedervi i nudi. Fatemi capire allora, per poi sventare un atto terroristico evadiamo? Sì, cioè no. Un condotto del diametro di un metro e mezzo porta la banda larga dentro le bibbie. Scapperemo da noi. Dunque noi scapperemmo via internet. Ci servirà dell'esplosivo. È pieno di idrossido di sodio. Lo apriamo e lo prendiamo. Io speravo stesse... un'ampolla... un'alambicco. Ho queste gomme che ci dobbiamo fare? L'esplosivo va tagliato con materiale classico e appiccicoso. Ho ingogliato la gomma. Come ho ingogliato la gomma? Oddio sto a morire. Mi hai scelto l'acido sorforico bene e non ti fa. Ammazzare le gambe. Ma che fa ammazzare le gambe? Ma mica un calo di zuccheri. Tu sei in arresto per essere evasodare bibbia. Ti mi hai tradito. Che cosa sta aspettando? Forse qualcosa di grosso, di epocale. Ora possiamo cominciare. Che fatica! Voi come ormai qua? Che avete fatto? Brode? Bancarotta fraudolenta? Occultamento di cadaveri. Occultamento di cadaveri? Però non l'abbiamo occultato troppo bene, sto cadavere. Se state qua. Ha 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 ha.